Numerose regioni italiane potrebbero diventare gialle, ma non sarà comunque un Natale da liberi tutti. Nelle ultime ore decisive per il nuovo DPCM trapellano voci su quali saranno le restrizioni che regoleranno, a partire probabilmente dal 4 dicembre, le festività natalizie, probabilmente chiusi gli impianti sciistici e ferme le crociere. Tra le proposte c'è anche quella di mantenere aperti gli outlet durante le festività natalizie. Resterebbe fermo il coprifuoco dalle 22 alle 5. Tra i nodi più discussi nelle ultime ore restano cenoni e spostamenti, tavolate ristrette ai parenti più intimi, si lavora ancora su possibili deroghe per ricongiungimenti tra parenti e familiari. Bloccati invece sarebbero gli spostamenti tra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio, anche tra zone gialle. In cantiere la possibilità di limitare il 25, il 26 ed il 31 i movimenti anche tra un comune e l'altro. Aperti forse i ristoranti per pranzo anche a Natale, Santo Stefano e Capodanno, ma nonostante questo la maggior parte dei fanesi ha programmato le festività in casa. Come passerete il Natale? Siamo a casa, siamo a casa come sempre, come sempre nel senso con i familiari perché tu vai, tanto fuori le giorni ci puoi andare, in montagna ci puoi andare. Con mio marito, mio figlio, mia suocera e basta perché non vogliamo assolutamente metterci insieme ad altre persone che potrebbero essere contagiosi o noi contagiosi lo stesso. C'è un nuovo DPCM in vista che non permetterà gli spostamenti tra regioni? Anche se io avessi qualcuno, sinceramente, che è fuori regione, che è sola, comunque cercherei di contattarlo o telefonicamente o con le videochiamate perché mi sembra giusto osservare quello che viene detto. Io sono contro il Covid, per me lo guardo, lo saluto, non me ne può fregare di meno. Io faccio alla grande, guardi, ho tutta la mia famiglia alla grande, ho preparato tutto, quindi non faccio un passo indietro. Forza Covid, perché abbiamo paura? Usciamo di casa. Io vivo a Pesaro, ma sono in Umbro, quindi poi me ne vado anche in Umbra, quindi faccio le due regioni. Non vediamo gli amici, non le consuetudini, l'ultimo dell'anno, sono tutte cose che non si fanno, ma il Natale sarebbe anche una festa religiosa. Tutto questo ambaradan, festaiole, non è che a me interessa. Gli spostamenti si faranno sicuramente legati al nuovo DPCM, non sono fortemente d'accordo perché per lavoro ti fanno spostare, visto che ti sposti per lavoro dovresti avere la possibilità di spostarti anche per il Natale. E voi avete qualcuno che magari è di un'altra regione, avreste voluto vedere? Sì, mia sorella che studia all'Università di Modena, quindi vedremo se riuscirà a raggiungerci in qualche modo, penso che dai, per lei sia previsto tornare al suo nucleo familiare. L'onda resta ancora molto alta, quindi attenzione a non scambiare un primo raggio di sole con uno scampato pericolo, spiega il ministro Speranza. Ancora settimane di sacrifici che includono anche le festività. Molti dicono io non so rinunciare al cenone di famiglia, invece voglio dire un anno se il Natale si passa in pochi e si osservano le regole, se no non usciamo più da questa situazione che è disastrosa. Bisogna per forza farlo se ne va a dire della vita, quindi è una cosa indispensabile se non vuoi crepare, quindi lo so che c'è l'economia, che ci sono i soldi, ci sono gli interessi giustamente, ma prima di tutto cosa viene? La pelle!